Il timore è che tanti operatori possano rimanere esclusi dalle assunzioni per il nuovo servizio rifiuti in house. La concertazione tra sindacati e impianti SRR e la società che ha ottenuto l'affidamento in questi mesi si è mossa tra alti e bassi. Un'intesa complessiva sui parametri dell'abbando per le assunzioni ancora non c'è. Le sigle sindacali USB e Fit CISL con i segretari Luca Faraci e Mario Stagno hanno ufficialmente scritto al prefetto di Caltanissetta. Chiedono che venga fissato un incontro prima possibile. Le organizzazioni sindacali in queste settimane hanno presentato le loro proposte di modifica del bando anzitutto concentrate sui parametri da adottare per la selezione. Una procedura di concorso resa necessaria dalla forma giuridica di impianti SRR che non consente un passaggio di cantiere diretto con Tecra. Il servizio in house con i lavoratori assunti in questa fase attraverso agenzie interinali è partito in diversi comuni della SRR mentre in città dovrebbe prendere il via entro ottobre. Le organizzazioni sindacali ritengono però che sia urgente un confronto a tutto tondo. Non a caso l'incontro chiesto alla prefettura dovrebbe essere allargato ai sindaci, al manager di impianti SRR ai vertici della SRR4. Anche in assemblee i primi cittadini dell'ambito hanno iniziato a valutare il tema delle assunzioni. Le segreterie di USB e FITCISL mettono in dubbio la legittimità delle procedure predisposte da impianti SRR. Parlano di urgenti e improcrastinabili motivazioni che spingono proprio alla richiesta di incontro rivolta al prefetto di Caltanissetta. Da quanto emerso, secondo i sindacati, c'è il rischio serio e concreto che centinaia di lavoratori possano essere esclusi o costretti ad accettare forme di contrattazione contra le GEM. Così si legge nella comunicazione inoltrata dai sindacati. I vertici di impianti SRR hanno sempre spiegato di essere disponibili al dialogo, ma allo stesso tempo vogliono chiudere prima possibile la procedura per il bando. Nelle scorse settimane, anche per evitare sorprese, i funzionari di impianti hanno bandito un avviso per individuare una società di lavoro interinale che possa fornire operatori sia per il servizio che per la piattaforma di Timpazzo, soprattutto qualora le procedure di selezione pubblica dovessero rivelarsi più complesse e lunghe di quanto ipotizzato. Secondo i sindacati, per scongiurare eventuali tensioni sociali e per evitare procedure di agitazione sindacale dovute proprio alla paventata attivazione di contrattazioni non in linea con le normative vigenti, è necessaria una convocazione urgente davanti al prefetto.